Sono Paola Barbato, siamo in viaggio da Roma a Bologna, da Bologna prenderemo un altro treno e andremo a Forlì. L'incontro col pubblico non si ripete mai ed è ogni volta un lungo corteggiamento, un tentativo di conquista. Un conto è leggere l'autore, un conto è incontrare l'autore. Se l'autore che incontri non assomiglia all'autore che ha scritto il libro c'è sempre un po' di senso di tradimento. Queste sottotracce umane che di solito non moschiamo ma che emergono in me, come emergono negli altri, emergono in me. La prima da sezionare sono le mie. Io ero molto timida e una delle maniere in cui riuscivo a coltivare delle amicizie erano le lettere. Molto più facile scrivere che per dire andare a una festa. Mentre cammino e vado a fare altre cose tipo mamma non trovo libri di matematica, mi fai pane e nutella, io vado in giro con il cellulare in mano e continuo a dettare quello che stavo scrivendo giù perché se no mi va via. E' un po' come le linee temporali, no? Quella linea lì è andata, poi non si recupera più, si scrive la stessa cosa, non si scrive in un altro modo. C'è un sacco di parole che usiamo solo in casa. Credo che ogni famiglia abbia un suo gergo, abbia un suo modo di raccontarsi. Sembra una specie di calderone in cui tutto gira, però tutto è distinto. Ci sono dei film che io amo ma che non amo rivedere, quindi li conosco bene ma quando li vedo mi fanno soffrire. Ci sono dei film invece più cacciaroni che potrei vedere milioni di volte perché mi tranquillizzano. Fermatevi un attimo, vi devo ragionare. Fermatevi un attimo, vi devo ragionare.